vi hanno avvisato i carabinieri che era successa questa sì, ieri mi hanno avvisato i carabinieri di Arcisat e poi siamo andati io e i due miei paesanni in Svizzera al commissariato della Svizzera e poi mi hanno spiegato le cose Karim aveva fatto le medie e stava per iscriversi alle superiori? sì, ma fa il parrucchiere, studiato, secondo anno quindi già, come dire, lavorava, era predisposto, diceva che amava i computer andava anche alla palestra di Varese si dava da fare? sì, erano tutti i ragazzi alla sua età e la vostra famiglia è qui da 40 anni? sì, io da 40 anni i paesi li volevano tutti bene, dicevi tu hai provato a sentirlo domenica sul cellulare? no, non l'ho sentito, da quando è partito che non l'ho sentito mi ritieni, ma vuoi fare? mi ritieni, scoperta mi ritieni, grazie e io ne ho sentito un po' mi ha dovuto chiamarla sempre con gli amici ho dovuto chiamarmi mi rispondeva io ne ho chiamava il mio amico che era tornato a casa Grazie a tutti.